Dopo questa bellissima introduzione del Presidente io vorrei entrare nel merito di questo tema che mi sembra sia il tema cruciale. Il Presidente ha parlato di padri, di figli, di generazioni, ha parlato della necessità di non guardare né al particolare né all'immediato. Noi siamo un grande popolo che sa reagire nel breve periodo, i nostri politici si sono appiattiti sul breve periodo, si è detto che anche la crisi l'abbiamo risolta perché abbiamo reagito immediatamente, ma oggi è il momento di guardare un po' più lontano, perché i problemi che noi abbiamo non sono solo congiunturali, sono strutturali e quello che io ritengo sia il problema dei problemi è la rigenerazione sociale, personale della nostra società. Le società se non innovano non possono essere dinamiche, tanto pregherei di mandare le slide. Le società che non si rinnovano non possono essere dinamiche, non lo possono essere soprattutto nel momento in cui la competizione si fa sempre più difficile, nel momento in cui l'arena dentro cui le imprese, i paesi, le società devono vivere e devono affermarsi è un'arena sempre più grande e quindi senza dinamismo le società si fermano. Come vedete la mia relazione è molto precisa. Senza i giovani il paese non può crescere. non voglio fare torto a nessuno soprattutto stando a Capri, essendo ospite dei giovani del sud, perché si potrebbe dire anche senza mezzogiorno il paese non cresce, senza le donne che lavorano poco, ma io credo che il problema generazionale sia il più importante, perché rinnovare il capitale umano, le persone, che poi sono quelle che fanno lo sviluppo, che fanno l'impresa, che fanno la ricchezza, che fanno il reddito, rinnovare le persone è la cosa più importante di una società e ve lo voglio dimostrare con dei numeri, la relazione di contenuto e anche i temi sono stati già sollevati e allora vediamo che cosa è successo in Italia. Il Presidente ha parlato degli anni eroici della ricostruzione, io mi sono messo esattamente dopo per non avere il problema di quello spirito di stato nascente che c'è e c'è stata nella ricostruzione italiana. Ho preso gli ultimi 40 anni e intanto ho messo insieme il reddito pro capi della capacità e la voglia di creare reddito con la presenza fisica dei giovani. Vedete in questo slide voi vedete che nei primi 20 anni la linea rossa e la percentuale di giovani siamo passati dal 28% al 31% di giovani fra 15 e 34 anni, cioè nella società il peso dei giovani è aumentato, il reddito nazionale è aumentato del 75%, siamo arrivati al 1991, vedete che la linea rossa scende, siamo passati dal 31% come incidenza dei giovani a meno del 26% e il reddito nazionale nei successivi 10 anni in termini reali è aumentato del 10%, allora quando ci sono i giovani presenti con la loro voglia di migliorare la società, di migliorare l'economia noi abbiamo avuto una media del 3% di reddito nazionale, quando i giovani non ci sono stati siamo cresciuti dello 0,5 all'anno, adesso c'è stata la crisi, c'è stata la crisi, c'è stato quello che volete, però meno giovani meno crescita, perché? Un fatto solo puramente meccanico, qualitativo, no, i giovani hanno la voglia di migliorare, ma lo dico a voi, non è la prima volta che ho partecipato alle vostre assemblee, anche voi entrando in azienda per coloro i quali sono di seconda o terza generazione, se non fanno la propria scelta, se non hanno una voglia di migliorare l'azienda, la vogliono soltanto mantenere, evidentemente si trovano in difficoltà e questa è la grande capacità che hanno il rigenerarsi delle generazioni. Faccio rapidamente, non voglio togliere troppo tempo, ma anche se noi facciamo un confronto europeo negli ultimi dieci anni, voi vedete che a sinistra ci sono i giovani, dove è diminuito di più la popolazione giovanile, cioè in Italia e in Germania, negli ultimi dieci anni, sono il giallo e il rosso, negli ultimi speciali sono anche i paesi che hanno avuto una minore intensità dello sviluppo, naturalmente Italia e Germania sono due cose abbastanza diverse, oggi il Presidente ha citato la Germania come esempio, anche noi lo citiamo, però guardate che c'è anche questo fattore, noi siamo due grandi paesi manifatturieri, siamo due grandi paesi dualistici, nord, sud, est, ovest e sappiamo che oggi però la Germania sta facendo molto di più, ma al contrario se voi vedete il blu che è il Regno Unito, a sinistra vedete che addirittura aumenta la popolazione giovanile e anche in Spagna prima degli ultimi anni in cui evidentemente c'è il contributo degli immigrati che sono andati via e quindi è diminuita la popolazione giovanile, ma voi vedete che anche se facciamo un confronto internazionale dove ci sono più giovani si crea più reddito, quando io dico voler migliorare l'economia vuol dire che noi stiamo ragionando sui flussi di reddito, sulla capacità di creare ricchezza nazionale, cosa è successo al contrario? Che noi abbiamo avuto notoriamente una maggiore incidenza della popolazione anziana che è quella linea arancione e abbiamo avuto un enorme aumento del patrimonio degli italiani, oggi ogni famiglia italiana dispone di una ricchezza netta di circa 350 mila euro, che è una cosa buona, che ci dà sicurezza, che ci dà solidità, che ci ha anche aiutato nella crisi, ma mentre la voglia di migliorare di fare reddito dà dinamicità al sociale, la voglia è la possibilità di avere patrimonio da staticità, da sicurezza, ma da maggiore staticità. E quindi voi vedete che il tema senza giovani non si fa crescita e dimostrato, se volete, forse in maniera troppo meccanica, ma io credo anche abbastanza evidente, da la sola presenza dei giovani. D'altronde noi fra un paio d'anni avremo più anziani sopra i 65 anni di questa fascia di 15-34 anni che sono diminuiti già di 2 milioni e che continueranno a essere più o meno stabili nel futuro, ma invece gli anziani aumenteranno da qui ai prossimi 20 anni di altri 4 milioni. Cioè si è invertita. Invece di rigenerarsi la società facendo gioco di rinnovamento anche delle generazioni, noi naturalmente stiamo facendo un percorso diverso. Seconda questione. Noi non solo abbiamo meno giovani, ma come già stato detto in precedenza, utilizziamo molto meno la popolazione giovanile. Anche perché diamo alla categoria giovani, io credo, un significato troppo generico. Io qui l'ho semplicemente messa in ordine. Per esempio noi diciamo la tasso di soccupazione giovanile 15-24 e del 27%, ma voi non pensate che un ragazzo a 15-16 anni debba ancora studiare piuttosto che andare a lavorare? E voi pensate che invece un ragazzo di 24 anni debba ancora studiare e non andare a lavorare? Cioè noi nonostante da tempo agitiamo il problema e la questione della marginalità dei giovani nella società, ho l'impressione che non abbiamo ancora specificato bene cosa è necessario fare per le varie articolazioni che il mondo giovanile ha. Fra i 15 e i 18 anni si deve fondamentalmente studiare. Si può anche avere un percorso di professionalizzazione che non c'è più. Abbiamo praticamente disarmato completamente la nostra struttura di formazione professionale. Oggi c'è una forte licealizzazione. Quindi noi facciamo andare in su per quelli che studiano e che ancora in Italia non sono sufficientemente coinvolti, facciamo andare su il processo formativo e facciamo poi andare in giù quello lavorativo. Per cui i laureati fanno i lavori che una volta facevano i diplomati, i diplomati molto spesso fanno i lavori che una volta facevano quelli con formazione professionale. E allora come vedete c'è un cammino da fare. Non possiamo applicare per esempio al tema della formazione l'idea che tutti i giovani debbano essere dei PhD e debbano fare i ricercatori. Ma non perché questo non sarebbe bello, ma perché sono milioni di giovani che devono lavorare. E quindi può anche essere che la dignità del lavoro, io vorrei che in tutte le sedi si ribadisse questo concetto, la dignità del lavoro deve andare dal lavoro manuale al lavoro di altissima professionalizzazione. La dignità del lavoro è l'idea che la istruzione e la formazione di cui anche ci riempiamo la bocca, più formazione, più soldi alla ricerca, giusto, ma incominciamo ad andare più in profondità. La formazione deve essere qualcosa che aiuta i giovani non solo a diventare adulti, ma aiuta i giovani anche a produrre qualcosa per sé e per gli altri. Che quindi sia una formazione che debba, secondo me, perdere il tabù che l'essere stato un paese di ignoranti ci ha fin qui portato. Cioè la scuola, la cultura è avulsa dal mercato del lavoro, perché noi negli anni 50 avevamo tanti analfabeti e la cultura dominante, anche politicamente molto ampio come spettro, era tesa a far sì che la formazione e l'educazione fosse in sé un bene. Oggi ci possiamo anche togliere lo sfizio di dire che la formazione e la libertà di insegnamento, la libertà di ricerca ci deve essere, ma deve essere maggiormente finalizzato, non dico al lavoro o al mercato del lavoro, ma al fatto che un giovane quelle conoscenze le debba applicare e nei tempi più rapidi, come vedete da questo quadro. Invece che cosa succede? Vado rapidamente. Che noi abbiamo più degli altri paesi europei, sia nella fascia 15-24, che per me dovrebbe essere la fascia dove ci concentra maggiormente nella formazione, nella formazione e nel lavoro, comunque dovrebbe essere la fascia terminale del processo formativo. Noi invece abbiamo, vedete, una grande differenza, perché in Italia tra 15-24 anni abbiamo solo il 20% di occupati e il giallo, tutti gli altri paesi c'erano di più, abbiamo il 60% di persone che ancora sono in formazione e abbiamo soprattutto quell'11% di chi incomincia a chiamarsi fuori, non lavora, non studia. E se andiamo dopo, vedete, nell'altra fascia, 25-29, che vi ho detto dovrebbe essere già la fascia in cui si entra nella vita attiva, non si sta ancora a studiare. direi una cosa anche sullo studio e sull'università, ma vedete che noi invece abbiamo, siamo il paese che ha più persone ancora in formazione, 14%, abbiamo il paese che ha più persone che ormai si sono tirate fuori, sia dal lavoro che dallo studio. Questo è un grave problema che coinvolge sia le università e il sistema di istruzione, sia che naturalmente i giovani. L'altro risultato qual è? Che noi siamo un paese dove c'è una minore propensione dei giovani a conseguire una laurea, abbiamo meno laureati, abbiamo anche in parte meno diplomati, ma nonostante che abbiamo meno laureati e diplomati, il tasso di occupazione dei diplomati e dei laureati è più basso del tasso di occupazione dei diplomati negli altri paesi e in più sta pure scendendo, vedete, i diplomati che sono sempre fino a 34 anni, che lavorano, sono passati dal 73 al 69, i laureati dal 71 al 67, cioè c'è qualcosa che non funziona e non funziona nell'organizzazione universitaria, abbiamo straordinari docenti universitari, abbiamo pessime organizzazioni delle università e abbiamo anche un certo livore che i docenti a volte hanno vessando gli studenti, ma dall'altra parte anche gli studenti secondo me non sono più abituati a studiare in maniera propria, si studia con maggiore intensità all'estero, come se ci fosse una specie di coazione dell'offerta della domanda di lavoro di diluire il percorso. Io studio, ma con minore intensità, non studio 20 ore al giorno come normalmente si fa negli altri paesi europei, ma per un periodo più concentrato, tutto si dilata e questo produce una dimensione negativa anche, soprattutto per quanto riguarda le professionalità più alte e rientra in gioco anche la flessibilità del lavoro, perché sono due problemi molto simili. Intanto bisogna dire in sede di economia industriale e manifatturiera che il fatto che i giovani laureati italiani lavorino meno è in parte dovuto all'economia manifatturiera, è molto dovuto all'economia del terziario, ma dove va un laureato? Un laureato può andare nel settore del credito, nel marketing, nei servizi di alta, certo, molti vanno anche ormai nell'industria, nelle tecnologie, ma noi credo dovremmo localizzare le richieste anche qui fatte nei settori dell'economia che sono più arretrati nel nostro paese. Noi abbiamo un terziario che effettivamente è quella la parte meno competitiva. Se un'impresa industriale, se una media impresa, una piccola impresa manifatturiera non riesce a esportare, non sta sul mercato, chiude, ma se invece i tanti lobbisti dei settori che vanno dai trasporti al credito, dai servizi all'intermediazione, hanno mille leggine che li tengono in piedi perché sono legate alla spesa pubblica, allora noi dobbiamo capire che i laureati non solo c'è un problema interno al sistema formativo, ma c'è un problema anche di destinazione, che non è tutta l'economia che deve crescere. E quel tipo di economia terziaria che in Italia è ancora fortemente diseconomica, è lì che bisogna operare. E anche la logica legata alla flessibilità, intanto il 75% dei giovani hanno un lavoro a tempo indeterminato, c'è una quota del 25% oltre tutto il lavoro che evidentemente non è censito e sommerso. Ma come vedete da questo grafico, non è detto che la flessibilità produca maggiore o minore densità di occupazione. Ci sono paesi, l'Italia per esempio a bassa tasso di occupazione, vedete Italia, e ha un 40% abbastanza elevato livello di flessibilità, cioè la flessibilità non crea lavoro. Però ci sono altri paesi, per esempio la Germania, per esempio la Spagna, l'Olanda, dove a un elevato livello di flessibilità corrisponde un alto tasso di occupazione. Allora io faccio questa deduzione. È vero che le regole del mercato del lavoro sono importanti, ma io non credo siano risolutive. Il problema per cui i giovani non trovano lavoro non è legato al fatto che sono sfruttabili meglio perché ci sono contratti a progetto, eccetera, eccetera, e che quindi la soluzione sarebbe riformare il mercato del lavoro. Io non credo assolutamente che sia questa la soluzione. Come d'altronde non può essere la soluzione facciamo ripartire in Italia così i giovani saranno occupati, oppure aumentiamo il numero dei figli così aumentiamo il numero dei giovani, sono troppo lontani. Dobbiamo trovare qualcosa che sia più vicina, ma anche qualcosa che sia più adeguata ai problemi che ci sono e quindi anche adeguata alle soluzioni. Qual è l'aspettativa della famiglia oggi media italiana per un giovane? L'aspettativa è un lavoro impiegatizio a 8-900 euro, ma sicuro. Rovesciamo questa logica. La logica che noi dobbiamo immettere anche nell'aspettativa delle famiglie, che poi si riflettono su quelle dei giovani, quella per esempio che debba essere dato più spazio alla capacità imprenditiva di ognuno, mentre come vedete noi siamo un paese dove le imprese giovani stanno diminuendo e soprattutto stanno diminuendo le imprese giovani di italiani. Che cosa vuol dire? Vedete la linea arancione ci dice l'andamento delle imprese con imprenditori di meno di 30 anni straniere, aumentano, perché sono le imprese a più bassa qualificazione, sono quelle dell'edilizia, sono quelle del commercio, sono quelle del turismo, mentre le imprese dei giovani italiani stanno diminuendo. Abbiamo circa 80.000 imprese in meno, sono nate nel 2010, cioè le difficoltà di fare oggi nel nostro paese sono un vincolo ineliminabile alla voglia che si ha di mettersi in proprio con un lavoro autonomo, con un lavoro professionale, con un lavoro imprenditoriale. Allora come vedete la questione giovanile non è una questione generica, è una questione che per fasce d'età, che per un raccordo maggiore fra formazione e attività di lavoro e con un ventaglio più ampio di possibilità di lavoro che vanno dal lavoro manuale e tecnico al lavoro iperprofessionalizzato a lavoro di impresa e professionale, cioè al lavoro autonomo. D'altronde noi non possiamo pensare che la questione giovanile la risolviamo con il welfare, la situazione giovanile la vedete lì, la spesa potenzialmente destinabile ai giovani è il 7% della spesa sociale italiana, gli altri paesi che hanno gli stessi problemi che abbiamo noi, per esempio il Regno Unito è il 15%, la media europea è il 14%, cioè noi non abbiamo risorse e politiche. Allora io dico Presidente, lavoriamo fino a 70 anni, ma perché non aboliamo subito le pensioni di anzianità? Io ancora non capisco perché un provvedimento che non lede diritti acquisiti, certo se a me mi tolgono la laurea che ho riscattato pagando un sacco di soldi un po' mi arrabbio, però se mi dicono che tutti vanno in pensione a 65 anni forse potrebbe essere almeno a 65, ma questo domani si può fare, non è che bisogna fare, ma perché no? Perché no? E allora questo è un modo di cercare di recuperare delle risorse e delle risorse che se guardate, mi dico solo questo, la casa, ora noi diciamo il problema della casa è comprare una casa ai giovani, quei poveri giovani che non possono fare il mutuo, ma scusate anche questo, io sono un pro immobiliare, ma voi pensate che una nazione che vuole essere dinamica debba continuare a congelare risorse nell'acquisto di un'abitazione, vi ho fatto vedere come il patrimonio aumenta, ma non può essere l'economia dell'immobiliare rivolta all'affitto, al reddito, perché non potrebbe essere anche questa una parte dello sviluppo e che darebbe anche ragione a chi oggi per mettere su famiglia e mettersi a vivere da solo deve comprare una casa, questa ve la faccio vedere solo perché è stupenda, guardate, gli affitti agevolati che in tutto il mondo si danno ai giovani, in Italia riguardano solo l'1% delle famiglie con meno di 40 anni e invece sono più del doppio, 2,6 per tutte le altre, cioè noi ancora abbiamo che le agevolazioni, chi può avere una casa pubblica o una casa del social housing, oggi mentre parliamo tutti che dovremmo essere per le giovani coppie, le famiglie, ancora oggi ne usufruiscono tre volte di più le famiglie più anziane. Allora io voglio dire per non fare solo il menagramo, ho mandato questa presentazione a mio figlio che ha 24 anni e ho detto certo c'è da stare allegri, allora per non fare questo volevo semplicemente dire che dare questo messaggio, primo, il problema giovanile dobbiamo sezionarlo e analizzarli in profondità, cosa che non si fa. Noi siamo ancora nell'idea di quelli che dicono che i giovani non hanno voglia di fare niente o di quegli altri che dicono che i giovani sono delle povere vittime. Considerando che magari le due cose potrebbero anche esserci in misura diversa, vediamo concretamente per ciascuna fascia sociale cosa si deve fare. Poi alcune cose, oltre a quelle che ha detto il Presidente, dobbiamo fare in modo che la formazione sia una formazione di alta qualità, ma di breve periodo. Ma perché abbiamo fatto una laurea breve? In tutti i paesi europei la laurea breve è la fine di un percorso? Da noi no, perché i docenti non l'hanno mai capita, non l'hanno mai voluta, hanno solo ridotto i testi e non hanno rifatto un percorso di formazione che possa portare a una conclusione. Ma è altra cosa, noi facciamo cinque anni. Negli altri paesi dove c'è un tirocinio, penso a chi ha laureato in legge che vuol fare l'avvocato, che vuol fare il magistrato, questo tirocinio non inizia dal quinto anno, inizia dal quarto anno, per cui tu finisci e fai il magistrato o l'avvocato ha 25 anni, cioè con sei anni. Invece da noi facciamo i cinque, poi facciamo gli altri due, poi facciamo il tirocinio. Questo può andare bene solo a naturalmente chi poi vive di queste cose. Secondo, le imprese, vi ho detto che le imprese nascono e muoiono, cosa perderebbe lo Stato se un'impresa di giovani che è stata già formata, quindi non imprese che si fanno per prendere il contributo, ma imprese dove il giovane ha già dimostrato di essere un imprenditore, ma che ha una grande probabilità di fallire, che per tre anni siano esentate da tutte le tasse, perché tanto lo Stato non perderebbe nulla, perché quella impresa potrebbe essere probabilmente destinata a chiudere, quindi non c'è base fiscale, ma noi daremmo ai giovani idea che non c'è solo il lavoro dipendente, che non c'è solo il lavoro dipendente a tempo indeterminato, c'è anche quel tipo di lavoro. E poi in azienda è evidente che si dovrebbe lavorare fino a 70 anni, ma noi sappiamo come le difficoltà che hanno le aziende ad avere personale illicenziabile di età adulta che magari non è in grado di entrare in un processo produttivo più innovativo. Allora perché non si fa un programma due per uno, non come il termico Roma-Lazio, uno gratis ogni cinque, no, ma che ogni due giovani che entrano, lo Stato si occupa del reimpiego da qualche altra parte di un anziano che non è più adeguato a quell'impresa che si rinnova. Io penso che non debba essere un tabù, perché oggi sappiamo che questo invece è una dimensione un po' selvaggia, per cui ci sono cinquantenni allo sbando, giovani che entrano con contratti diversi, eccetera. E infine io direi, ma se noi dicessimo che tutti i giovani che si affittano una casa fino a venticinque anni, prendono cento euro, cento, cinquanta, ma diamo il segno che l'autonomia è anche un'autonomia e una responsabilità personale, forse anche questo è un segnale sventagliando dall'impresa alla scuola, all'università, all'azienda, alla casa, così dice qualcosa di concreto la facciamo per i giovani. E alla fine credo che il punto sia che dobbiamo trovare il coraggio necessario ad agire, ragionando, credendo in quello che diciamo e poi agendo. Ma anche per la provenienza del Presidente vorrei dire che proprio in questo momento, come ci diceva Dante, ogni viltà conviene che qui sia morta. Agiamo! Grazie!